ciao sono francesco titolare del micro birrificio artigianale di buti per fare le nostre birre oltre a materie prime italiane utilizziamo la purissima acqua di sorgente del nostro monte serra dopo la selezione dei giusti malti per la ricerca da produrre vengono eseguite scrupolosamente tutte le diverse fasi di birrificazione artigianale sotto la guida responsabile e professionale del nostro mastro birraio marco nella fase di ammostamento inseriamo i grani precedentemente macinati e tenuti in acqua calda per circa 120 150 minuti passando per i vari step di temperatura al termine viene eseguita la prova dello iodio per verificare l'estrazione zuccherina passiamo poi alla filtrazione per dividere la parte solida chiamata trebbia dalla parte liquida chiamata mosto alla fine tramite il riflettometro misuriamo l'estrazione zuccherina in gradi plato adesso inizia la bollitura processo della durata media di circa un'ora dove vengono inseriti i luppoli passiamo poi alla fase di whirlpool che serve per fare una prima chiarifica al mosto facendo decantare i residui l'ultima fase prima della fermentazione consiste nel raffreddamento del mosto alla temperatura di circa 22 gradi per il successivo inoculo del lievito la regolazione della temperatura trascorsi infine sette giorni di fermentazione 10 di lagalizzazione e dopo aver controllato la densità passiamo all'imbottigliamento e all'etichettatura adesso la vida è pronta per essere spedita e bevuta alla vostra